L'omicidio De Meo e il delitto Fadani hanno lasciato un segno indelebile nelle comunità di Martinsicuro, Alba e Casteldilama. L'eco di questi drammi non si è spenta e a distanza di mesi la necessità di riportare un presidio di polizia in Val Vibrata si è fatta sentire. Così ieri mattina i sindaci di quattro comuni della costa Terramana si sono dati appuntamento per scrivere al prefetto e al questore reclamando un posto estivo di polizia. Più che di una richiesta pura e semplice si è trattato di una proposta di collaborazione. Abramo di Salvatore per Martinsicuro, Franchino Giovannelli per Alba Adriatica, Gino Monti per Tortoreto e Francesco Mastromauro per Giulianova hanno proposto di farsi carico, come comuni, delle spese di vitto e alloggio dei 12 agenti che si muoveranno lungo il territorio litoraneo. E dalle prime indiscrezioni pare che la proposta possa essere accolta dal Ministero. I quattro hanno poi discusso dell'opportunità di ubicare il nuovo posto di polizia a Martinsicuro con l'intesa di ubicare il presidio nei prossimi anni in una delle altre località. Una sorta di posto itinerante con un servizio ad ampio raggio 24 ore su 24. Un modo per rafforzare gli apparati di sicurezza, visto che la Val Vibrata da sempre reclama un potenziamento delle forze di polizia alla luce di episodi delittuosi che hanno visto sfortunate protagoniste le cittadine costiere. Mete, in estate, di tantissimi turisti, ma anche crogiuolo di numerose etnie, spesso difficili da conciliare.